Domenica 27 gennaio dalle ore 9 alle ore 16 e 30 su iniziativa dell'Istituto Musicale Goitre A Vallo della Lucania si terrà il seminario con un grande virtuoso della chitarra, Maurizio Colonna, Pop Studios for Guitar Un'importante presenza a Vallo della Lucania, Maurizio Colonna è considerato infatti, unanimamente, uno dei più grandi chitarristi classici del nostro tempo Ha iniziato a suonare la chitarra a 5 anni, a 7 ha debuttato in teatro come solista, a 17 ha suonato il concerto di Aranius per chitarra e orchestra accompagnato dall'orchestra da camera dell'Angelicum di Milano in presenza di Joachim Rodrigo Da allora la sua carriera di interprete e compositore lo ha reso celebre in tutto il mondo Intensa la collaborazione con la pianista-compositrice Luciana Bigazzi con cui ha fondato l'etichetta discografica NCM e con il chitarrista australiano Frank Gambale Numerose le apparizioni in tv, i riconoscimenti artistici e concerti nelle sedi più prestigiose Ha suonato di fronte al Papa il Presidente della Repubblica Italiana è stato il primo chitarrista classico ad esibirsi come ospite al Festival di Sanremo Per informazioni e iscrizioni al Master è possibile contattare il maestro Giuseppe Cairone al numero 329 46 28 387